Autonomia differenziata, occhiuto, serve prudenza, prima finanziare l'EP. Io non sono contro l'autonomia differenziata. Se si applica quel testo è di grande garanzia per il Sud, perché si fa solo se ci sono i LEP. Quando sarà possibile sarà una grande opportunità anche per il Sud. Attenzione però a dare altri pretesti a chi ha reso ideologico questo dibattito. Lo ha detto parlando alla festa di Forza Italia Giovani e a Bellaria, a Rimini, il presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia Roberto Chiuto. Io, ha detto, l'autonomia differenziata me la sono già presa quando ho portato Uber in Calabria, unica regione a farlo. Salvini mi ha impugnato una legge, io ho fatto ricorso e ho vinto. Non ho paura dell'autonomia differenziata, temo il modo in cui il centrodestra è arrivato a raccontare l'autonomia differenziata. Ovvero che è stata approvata per un capriccio della Lega.